Genoa contro Roma, formazioni a confronto a oggi Martinez-Rui Patricio, a oggi direi Martinez maggiore Sabelli-Castrop, a oggi secondo me Castrop leggermente maggiore Bani-Mancini, a oggi Mancini superiore, incredibile tra l'altro Dragusin-Lorente, a oggi Dragusin maggiore di Lorente Vasquez-Spinazzola, a oggi uguali Friendloop-Ndicà, a oggi Ndicà leggermente superiore Badel-Paredes, a oggi uguali Strotman-Cristante, a oggi Cristante leggermente superiore a Strotman Gudmundsson-Pellegrini, a oggi secondo me Gudmundsson meglio di Pellegrini Malinoski-Dibala, a oggi Paolino-Dibala maggiore di Malinoski Rettegui-Lukaku, a oggi secondo me il Tigre è leggermente superiore a Lukaku Che non è ancora in formissima Girardino contro José Mourinho Au